ciao a tutti allora oggi mi sento un po così bella nervosetta perché vorrei spiegarvi delle cose per la prima volta quindi se le spiegazioni non saranno perfette non fatevi problemi io rispiego anche dieci volte e rispondo alle vostre domande oppure ci saranno degli amici che risponderanno per me nel caso io non sappia o sia occupata volevo parlarvi di come iscrivervi su steemit quello che vi serve è un indirizzo mail attivo e un cellulare funzionante quindi sono dei prerequisiti abbastanza semplici quello che vi suggerisco di fare comunque è di avere sempre un file word o insomma un file blocco note non so come chiamarlo dove potrete dove potrete salvarvi le password di steemit o chiamata anche private key perché è una password molto difficile molto lunga quindi questo queste tre cose cellulare un indirizzo mail e un file dove salvarvi la password benissimo partiamo col fatto che voi dobbiate entrare su steemit.com scritto steemit con due e comunque vi lascio sempre l'indirizzo nel sottopancia cercherò di aggiungere delle altre informazioni e dovete andare nella prima opzione in alto sulla destra sign up è un pulsante da schiacciare a questo punto vi servirà il vostro indirizzo mail e potrete scrivere l'indirizzo mail cliccare la notifica che voi non siete dei robot e continuare a questo punto dovrete rispondere per esempio a delle domande che vi verranno dette cioè selezionare per esempio un cartello stradale e voi dovrete andare su questa figura e cliccare soltanto il cartello stradale per esempio verificandolo a questo punto sarete verificati fortunatamente e dovete andare a controllare il vostro indirizzo mail e cliccando sul sul link che vi sarà stato spedito su questo indirizzo mail potrete andare avanti con la conferma inoltre quando andrete a confermare questa prima mail vi sarà chiesto il vostro numero di telefono che scriverete appunto con il numero della vostra nazione quindi l'italia il più 39 poi ci sarà il numero di cellulare e cliccherete l'opzione il pulsante continua adesso sono nervosa dico un sacco di cavolate scusate sul vostro cellulare dopo alcuni momenti dovrà comparire un codice e questo è comparso mia mamma che però si è già registrata quindi questo questo passo sembra essere un forse nelle ultime versioni di steemit diciamo questo passo sembra essere un po' obsoleto non lo so se raccolgo ulteriori informazioni vi farò sapere dunque questo codice dovrebbe essere scritto nel caso steemit lo richieda come codice di conferma in tal caso scrivetelo nell'apposita scheda e continuate le operazioni a questo punto vi saranno chieste di scegliere una password o un username attenzione le password sono molto importanti e devono essere assolutamente salvate quindi salvate ovunque e come ultimo diciamo opzione vi raccomando di verificare la password e cliccare su creare account create account dovrebbe dovreste ricevere anche una seconda mail al momento non ho ancora ricevuto una mia mail di conferma ma molte volte può durare dagli 1 ai 4 giorni per cui io sto ancora attendendo se fosse necessario fare delle correzioni a questo video vi farò ulteriormente sapere nel caso abbiate dei dei problemi non abbiate paura a chiedere siamo tutti molto gentili cioè io cerco di essere più gentile possibile ho un caratterino ma non abbiate paura non mordo così tanto abbaio molto ma cerco di mordere il meno possibile vi ringrazio di cuore a tutti un bacione e buona giornata e buon anno ciao ciao